Memoria per ricordare, tramandare e denunciare. Ma memoria nel diventare esempio significa soprattutto riconoscenza per quelle persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vittime di un sistema che hanno combattuto con forza. Le loro vite spezzate insieme a quelle dei familiari, di altri giudici e rappresentanti delle forze dell'ordine sono state ricordate a Pescara in un incontro che conclude una due giorni molto intensa iniziata ieri con la firma di un importante protocollo tra le istituzioni e il premio nazionale Borsellino, un modo per coordinare le iniziative future. La memoria del resto rimane l'unica vera arma per mobilitare la coscienza civile. La data simbolo è quella di oggi, 23 maggio, 31 anni fa la strage di Capaci, quasi due mesi dopo, il 19 luglio, quella di Via D'Amelio. Commemorare queste dolorose ricorrenze significa rafforzare l'impegno delle istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata e promuovere in ogni sede la cultura della legalità, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. Il questore di Pescara, Luigi Liguori. È un'eredità enorme quella che hanno lasciato ed è il compito nostro quello di trasmetterla ai giovani perché molti dei ragazzi che sono qua dentro mi hanno sentito parlare soltanto dai genitori oppure dagli insegnanti perché il tempo è passato. La cattura qualche mese fa di Messina Denaro significa che è un anno zero della mafia? Ma guardi, i criminali sono sempre esistiti e esisteranno, io non credo che esista un anno zero, io credo che le istituzioni debbano fare sempre il loro dovere e io vedo un po' la delinquenza, anche quello organizzato un po' come un prato, più noi lasciamo crescere questo prato e più diventa un bosco. Quindi Messina Denaro è stato un successo dello Stato ma credo che la lotta sia ancora dura per sconfiggere la criminalità organizzata. Chiusura con la voce della scuola nelle parole di Daniela Puglisi dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'attività delle scuole non si ferma, non è limitata soltanto a queste giornate, rientra nell'azione didattica quotidiana di tutti gli insegnanti per cui noi continuamente nelle scuole abbiamo percorsi di legalità. Il lavoro straordinario delle scuole va fatto e va anche incrementato, però non può essere solo la scuola a ricordare. Che cosa possiamo fare noi? Guardi, devo dire che noi qui a Pescara viviamo una realtà forse virtuosa, nel senso che noi abbiamo delle sinergie con le istituzioni molto forti. Certo la scuola non può essere lasciata sola ad affrontare un problema così grande, però devo dire che qui la viviamo in maniera condivisa, partecipata da parte di tutti.